Salute Qual è la tua squadra del cuore? San Paolo e Milan Milan La più forte? Milan Noventus La più sfigata? L'Inter L'Inter che non lo vedo mai Chi è il tuo giocatore preferito? Ronaldo KKK Per cosa ti stai allenando? Champions League Mondiale El Pais, El Pais o El Pais Quando provi l'emozione più grande? Quando faccio un gol Quando fai un gol Come esulti quando fai gol? Così Quanto ti pagano per una partita? Tanto Niente Quanto ti ripaga una partita? Una partita mi ripaga tanto Tanto, bello Qual è il tuo dolce preferito? Il mio dolce preferito? Brigadero Dolce brasiliano Ficcolato Sei innamorato? Innamorato Tanto Ci fai una dichiarazione d'amore? Amore, ti amo Amore, meglio Ti amo Un tuo pregio? La sincerità L'onestà Sono Sì 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 Un tuo difetto? Essere Sempre a casa Non voglio uscire Perché è potente Il tuo coro preferito? Ah, siamo venuti fin qua Siamo venuti fin qua Per vedere il segnale cacca Sì 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 Fai un urlo Ah Eh Il giocatore più speciale con il quale ti sei allenato? Matteo Con Con KK Di testa? Di testa Non è che tu sei bravissimo Siamo lì KK I più forti voi due o Ronaldo e Ronaldinho? Noi due No E KK Facci vedere il tuo sorriso? Le mani? Fai un in bocca al lupo a Matteo Matteo che Dio ti benedica E un grande special Olympics per te Che vuoi dire a KK? Che KK è un grande